ArcelorMittal, crisi di governo permettendo in arrivo un nuovo scudo penale. Bridgestil, il secondo produttore del Regno Unito potrebbe passare nelle mani dei turchi. Ast Terni, ThyssenKrupp rivede i propri progetti per gli acciai speciali. Tornano le incertezze. Innova 2019, tra ottobre e novembre un tour in tre luoghi simbolo dell'innovazione. Crisi di governo permettendo, il salvataggio in extremis per l'Ilba di Taranto sarebbe quasi cosa fatta. In arrivo infatti ci sarebbe il nuovo scudo penale, a ben vedere non troppo diverso dal vecchio, per ArcelorMittal e legato alle singole scadenze relative alla realizzazione del piano ambientale per Taranto e che, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 agosto con la formula del salvo intese, è operativo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. L'obiettivo è quello di facilitarne l'approvazione dalle camere, se nel frattempo la situazione a Roma non sarà precipitata, entro 60 giorni, anche per scongiurare il rischio che ArcelorMittal abbandoni, come più volte minacciato, il 6 settembre prossimo. La nuova disposizione corregge il decreto Ilba del 2015 che dava una immunità penale e amministrativa a commissario straordinario, affittuario o acquirente dell'acciaieria e fissava la scadenza di questo scudo proprio al 6 settembre. Ora la nuova norma precisa che per affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati l'immunità resta anche dopo quella data, ma si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del piano ambientale, sino alla scadenza dei termini di attuazione previsti dal piano stesso per ciascuna prescrizione o dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di Ilba in amministrazione straordinaria. In ballo ci sono circa 2,4 miliardi di investimenti messi sul tavolo dall'azienda, di cui circa la metà sul fronte ambientale, senza dimenticare che il tutto sarà decisivo per il futuro di migliaia di posti di lavoro e che quello di Taranto è un fronte cruciale per tutta la filiera dell'acciaio in Italia. Che dalla Turchia, smentita di maniera a parte, avessero messo British Steel nel mirino, era apparso chiaro da tempo, ma proprio nel pieno dell'estate si è registrata la svolta. Il Fondo Pensioni delle Forze Armate Turche, OIAC, attraverso il suo braccio finanziario rappresentato dalla Hata Air Holding, è ora ufficialmente, forte di un progetto che prevederebbe un investimento complessivo di circa un miliardo di euro, l'acquirente preferito del secondo produttore di acciaio del Regno Unito, che è in crisi da tempo e da maggio in regime di liquidazione. La possibile acquisizione di British Steel da parte del gruppo turco, però, apre scenari nuovi. Hata Air Holding, infatti, controlla una quota molto vicina al 50% di Erdemir, leader turco nella produzione di acciaio e terzo player europeo di settore. Alla manifestazione di interesse di Hata Air Holding, gli inglesi hanno risposto dicendosi aperti al business e, in un momento come quello attuale, con il Regno Unito che intende portare avanti il processo di uscita dall'Europa, la possibile acquisizione del colosso dell'acciaio da parte dei turchi, la procedura potrebbe essere portata a termine entro l'anno, rappresenterebbe un problema non di poco conto per la siderurgia continentale. Tanto che dal gruppo turco, Toker Oskan ha preferito non commentare le notizie che stanno circolando. Terni è stata una delle città più calde di questo agosto, ma un lungo brivido freddo è passato sulla schiena di parecchia gente, nella città Umbra, sede di Acciai Speciali Terni, quando Guido Kerkhoff, CEO di ThyssenKrupp, che controlla AST, ha dichiarato che, in considerazione del crescente vento contrario economico, abbiamo cambiato direzione in tempo utile e stiamo proseguendo con la ristrutturazione. E per essere ancora più chiaro, Kerkhoff ha spiegato che ThyssenKrupp ha iniziato a fornire programmi di performance completi in tutte le aree di business, incluso il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle misure già in corso per determinare se sono necessari i programmi aggiuntivi. E che sono state identificate le aziende che, nonostante gli sforzi intensi, non sono attualmente competitive o la cui attuare attuazione di mercato richiede un posizionamento competitivo della prospettiva odierna. E siccome ha fatto specifico riferimento al mercato dell'automotive e al settore Steel Europe, un team di esperti deve sviluppare piani di una ristrutturazione che, se non riuscirà, ThyssenKrupp esaminerà altre opzioni strategiche che saranno annunciate entro la fine dell'anno civile, perché l'obiettivo è iniziare a operare nella nuova struttura dall'inizio del 2020. Il pensiero è subito corso al tubificio di Terni, di acciai speciali Terni, che ha pagato pesantemente la crisi di settore, ma più in generale alla stessa Asta, il cui amministratore delegato Massimiliano Burelli ha già più volte annunciato che i quasi 100 milioni di utili del 2018 resteranno solo un bel ricordo e che i risultati del 2019 saranno molto meno positivi. Ed ecco che per il polo terreno delle acciai speciali ora si prospetta un nuovo periodo di incertezza. Tre tappe nel cammino verso il futuro, quelle che tra ottobre e novembre porteranno Innova, che diventa così il role show dell'innovazione per la pigliere siderurgica, in alcuni dei luoghi italiani dell'avanguardia. Dopo il successo della prima edizione, quindi, nel 2019 Innova cambia format. La convention va in tour per incontrare e mettere a confronto i protagonisti della community dell'acciaio. Innova in tour consiste in tre giornate organizzate in altrettante eccellenze italiane per offrire agli imprenditori siderurgici l'opportunità di incontrare aziende e start-up selezionate, conoscere esperienze e progetti potenzialmente rivoluzionari anche per il business siderurgico. I dettagli ce li fornisce il direttore generale di Siderweb, Lucio Dall'Angelo. Un piccolo gruppo di imprenditori, tecnici, operatori del mondo della figlia dell'acciaio in visita in tre luoghi importanti, centrali, sul tema dell'innovazione. Cominciamo il 3 ottobre a TAG Torino, nella sede della Fondazione Agnelli. Quindi il mondo dell'acciaio, l'innovazione digitale, l'innovazione sul versanto dell'automotive. La seconda tappa sarà in Danieli Automation, il 17 ottobre. In quell'occasione vedremo e toccheremo con mano quelle che sono le innovazioni più importanti sul tema del forno a carica unica, la tecnologia Q1 messa a punto da Danieli. Infine, il 29 novembre, all'interno del MEXPE, che per la prima volta dopo Parma fa tappa a Bari, alla Fiera del Levante, porteremo gli imprenditori della filiera siderurgica del centro-sud a incontrare chi progetta e opera e produce nel campo dell'innovazione. Ma la tappa di Bari avrà anche un significato particolare perché rappresenterà il momento nel quale gli imprenditori del centro-sud della filiera siderurgica si confronteranno con i temi dei bilanci 2018. Vi aspettiamo perché questo tour lo vogliamo fare insieme a voi.